Io vorrei usare i miei sette minuti in maniera piuttosto intensa, dandovi un'idea di come l'Europa sia stata utile nelle nostre attività, riportandovi quella che è uscita come innovazione principale dalle attività fatte con l'Europa e dandovi un po' di immaginario di quelli che possono essere gli edifici del futuro dal mio particolare punto di osservazione. La mia esperienza è una testimonianza positiva di come l'Europa possa aiutare in questo caso una small, medium enterprise, una micro-impresa diremmo in italiano, quando ha in testa di sviluppare un'idea ambiziosa, nel nostro caso una piattaforma per l'arena della prefabbricazione industriale in architettura, per i vari supplier, con un'ambizione grande di essere una eBay, una Facebook, un Amazon del proprio settore, ma con in tasca pochissimi fondi privati, con l'idea di dover costruire una tecnologia che non esiste per un mercato che è ancora ad avvenire e quindi è difficile intercettare dei fondi di investimento così davvero a rischio e con l'intensità che richiedevano in questo caso. L'Europa ci ha capiti, ci ha supportato in questo processo e ci ha dato quella sponda di investimento che ci ha permesso di produrre delle cose. Non ci ha fatto fare la piattaforma, non ci ha sviluppato un prodotto, ma ci ha permesso di sondare dei prototipi, verificarli e validarli con dei casi pilota e con dei clienti, con degli stakeholder, degli interessati del settore che possono essere poi i futuri clienti e approfondire anche tecnologie e sistemi come le ontologie dei prefabbricati, sistemi di building formation modeling che stanno attorno a questo tipo di attività. E non capita di un botto. Il primo progetto, MACE in questo caso, il settimo programma quadro, è un progetto che ci permette di sperimentare con le nostre community, quindi architetti e ingegneri in questo caso, attorno a modelli tridimensionali che incominciano a controllare non solo la parte architettonica, ma con i dati che hanno al loro interno, big data, riescono a descrivere l'edificio per l'impiantista strutturale, per l'ingegnere che deve fare i calcoli energetici e quindi una sperimentazione diretta con le community è stato il primo passaggio. Un secondo progetto europeo che si ricollega ai risultati ottenuti nel primo e quindi ne fa beneficio, che è in questo caso a Venus, non si proiettano nel campo del cloud computing, dove inseriamo per la prima volta questi modelli tridimensionali all'interno di grandi capacità di calcolo, in questo senso per noi cloud computing. Abbiamo 500 computer distribuiti su varie risorse, sempre che arrivano dalla progettazione europea, altrimenti non ci saremmo potuti permetterli di usarli, e lì lanciamo dei calcoli strutturali, delle visualizzazioni immersive, fino a un terzo progetto che prende questi due progetti in loro insieme, li mette insieme e si occupa di costruire un sistema per fare analisi energetica, ottimizzazione energetica su quei modelli tridimensionali già testati per le altre caratteristiche ingegneristiche. Quindi un percorso lungo per arrivare a individuare un'innovazione significativa, un percorso però nel quale piano piano, una piccolissima realtà, che aveva a disposizione solo il 20% dell'investimento, non aveva contatti, si trova all'interno di un network europeo e di rimbalzo anche internazionale, al quale non avrebbe avuto accesso in altra maniera. E nella condizione sana e sicura della ricerca, per cui tutti i clienti che vengono affrontati sanno che stiamo facendo una cosa top, edge, che non esiste ancora nei mercati, e quindi si confronta in maniera molto tranquilla. E si trova ad avere a che fare con il Fraunhofer Institute, che è l'istituto di ricerca più importante in Germania, quindi in Europa, o con centri di incubazione, a questo punto in giro per il mondo, perché l'Europa supporta l'attività di creazione di DEMA e poi anche di esportazione nei mercati, supplier, prefabbricatori, altre start-up, tecnologie, università, che mettono a disposizione dei know-how che sono solo all'interno delle università in questo momento. Un po' veloce, si ottengono dei risultati, per cui è l'agenda europea nel loro sito, che dicono, Green Prefab è un caso di successo, da piccolo, coinvolgendo dei cluster locali, ha utilizzato dei fondi pubblici per creare dell'innovazione di prodotto. Ci può agganciare Microsoft all'interno di questi piani. Cosa facciamo come Green Prefab? Noi facilitiamo sostanzialmente, grazie all'uso di questi modelli tridimensionali che mettiamo al centro della filiera produttiva, la produzione e la costruzione degli edifici. Quindi il progetto in questa maniera guida con la produzione di edifici prefabbricati che hanno lo scopo di avere prestazioni energetiche altissime. Molto velocemente come facciamo? Creiamo dei modelli, di quei modelli, estrapoliamo le informazioni energetiche, le collochiamo nel contesto sia geografico e quindi fascia climatiche, che proprio specifico tridimensionale del contesto, e lanciamo una serie di variabili parametriche su questi edifici, di varianti per esempio orientamento dell'edificio, il tipo di isolamenti che io posso avere, il rapporto tra parte opaca e parte trasparente dell'edificio. Una cosa, se ho capito bene, specificare, quando dite che c'è una simulazione tridimensionale dell'edificio sostanzialmente nell'ambiente in cui è realmente collocato, banalmente la fascia climatica non ti dice se c'è una montagna davanti che fa ombra o meno, no? Invece loro tengono conto di queste cose, per cui se si calcola qual è l'apporto di energia solare a quell'edificio, si calcola a quell'edificio, non perché siamo in Lombardia e della media. Google Earth ci aiuta a farlo gratuitamente. Certo, certo, certo. Quindi assegniamo tutte queste variabili che seppur ancora grossolane, perché in questo caso 11 tipologie di isolamento, 3 tipi di finestre, 4 tipi di impianti, non molte varianti, ma producono 2 milioni e mezzo di combinazioni tra di loro. Cioè producono 2 milioni e mezzo di edifici che io produco con delle procedure di creazioni generazionali, insomma, ma che si avvicinano ad un livello di quel tipo dove nelle X abbiamo il consumo energetico per scaldare e nelle Y abbiamo il consumo energetico per raffreddare. E ogni punto rappresenta uno dei possibili edifici con tutte le combinazioni che ho. Quello che noi riusciamo a fare è produrre questi calcoli, in questo caso 2 milioni e mezzo di calcoli, ci si metterebbe 51 anni nel computer quad core, qui ci mettiamo una settimana con 500 computer. Le soluzioni più interessanti, più performanti, stanno proprio in quell'area lì, dove è più basso l'heating e il cooling, la richiesta di energia per riscaldare e raffreddare. Quindi molto semplice. In questa maniera stiamo spostando verso l'estremo il potenziale di un edificio anche esistente. Quindi da quello che è il 30% attualmente stiamo passando a un 70% con queste tecnologie di ottimizzazione. Questo permesso dal cloud computing. Corro veloce per darvi un po' di immagini. Devo chiedere di andare in chiusura. Mi pareva carino lasciarvi con un'idea di come saranno questi edifici prodotti in questa maniera industrialmente, con i calcoli eccetera. tre elementi. La parte di produzione, attenzione, sta cambiando tutto. Non siamo più in cantiere, non siamo più all'interno dello spreco di materiali e di tempi in cantiere, ma, scusate, non so se ti andate avanti, ma stiamo parlando di produzione off-site dentro in fabbrica, quindi i tempi non si bloccano se piove. Non so cosa sta a succedere. C'è un lampeggiamento, c'è un effetto stroboscopico inspiegabile sugli scheri. per fortuna non hanno ancora mangiato. La parte industriale forte nella produzione, sia che sia in fabbrica, si parli di prefabbricazione, si parla di 3D printing, si parla di robotica in cantiere per aiutare la costruzione e velocizzarla, edifici che, come tipologie costruttive, saranno sempre più modulari, interi moduli che arrivano in cantiere, si collocano nell'edificio. C'è un bellissimo progetto per dire dove moduli di questo genere, si chiama Casa Zera, dove moduli di quel genere vengono infilati dentro una struttura, le classiche strutture abbandonate in cemento armato dove trovate solette e montanti, invece di demolirle e ricostruirle, possono essere popolate da tanti moduli abitativi di questo genere, ed è un modo per evitare demolizioni con impatti ambientali, per esempio. E quello che ci interessa più oggi in questo contesto, è che questo tipo di edifici intelligenti vengono collocati all'interno di città che stanno diventando a loro volta intelligenti, che hanno protocolli di certificazione, che hanno reti di scambio, eccetera, e soprattutto saranno controllati dal nostro telefonino. Gli edifici del futuro hanno queste caratteristiche, ne hanno tante, leggete, le guardate, se vi ritrovate, sono pronti in fabbrica, sono amici dell'ambiente, ma soprattutto scambiano energia, questo oggi volevo che vi portaste a casa. Gli edifici di nuova generazione non sono più dei consumatori di energia, ma anche loro sono dei prosumer, se vogliamo, ne producono e ne restituiscono, in ogni caso incominciano a scambiare energia. Cosa questo voglia dire? È una sfida che anche in realtà come Ascotrade sicuramente potrà approfondire o dovrà approfondire perché va nei gangli importanti del proprio business.